Tu dici spesso che la leggerezza in qualche modo è un espediente. Con la leggerezza trovi una scorciatoia. Tu dove la trovi la leggerezza? Guarda, cerco di trovarla dentro di me chiaramente e cerco di trovarla in tutto quello che accade. Anche io con la mia famiglia, con la mia vita, come tutti quanti, abbiamo avuto delle problematiche anche forti da affrontare. Ecco, nel momento in cui con l'accettazione inizi a guardarle anche con un po' più di leggerezza, ti dico che si trova più facilmente una via d'uscita a tante e a tante cose. Perché poi fondamentalmente i problemi hanno una valenza oggettiva, che però aumenta soggettivamente. Se tu soggettivamente dai un carico pesante a quello che ti accade, quella valenza oggettiva diventa opprimente. Se invece soggettivamente la smussi, perdesti valore.